Se la neomaggioranza invocata da Greco il giorno del suo rientro aveva già dato segni di traballamento al primo esame in aula per l'acquisizione della torre di Manfria finita in un nulla di fatto per l'assenza di numero legale, quello che è successo 24 ore dopo nella seconda seduta non può che essere raccontato se non come una vera e propria caporetto per i progreco. Niente da fare anche stavolta per l'acquisizione della torre da parte del comune, solo sei voti con i progreco quasi dal tutto assenti e il centro-destra che non ha partecipato all'atto finale. Tra i voti a favore anche quello della grillina Virginia Farruggia che in aula alla fine ha sostenuto il provvedimento per il passaggio della torre all'ente comunale. I numeri però hanno detto altro e la Farruggia punta il dito contro l'assenza della maggioranza. La maggioranza era assente ieri, la maggioranza è assente oggi. Oggi più di ieri peraltro quindi io sono andata a favore dei miei principi, a favore di quello che ritengo essere il bene della città. Quindi evidentemente era un atto per la città, non era sicuramente un atto politico quindi oggi non sono stata né con la maggioranza che era completamente assente né con un centro-destra che fa mancare il numero legale quindi non fa materialmente votare un atto per la città perché non può diventare tutto un banco di forza politico. Non funziona così in consiglio, non dovrebbe funzionare così in consiglio comunale. Noi consigli comunali siamo chiamati a votare gli atti che riteniamo facciano bene alla città o meno. La Farruggia si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa nei confronti del sindaco che ieri aveva accusato i consiglieri di opposizione di incoerenza. Non ho apprezzato ovviamente le dichiarazioni del sindaco ieri, io non ho mai cambiato la mia posizione. Ieri ovviamente era più utile evidentemente far cadere il numero legale visto che non c'erano i numeri per far passare l'atto. Ci abbiamo provato oggi ma oggi è mancata la maggioranza del sindaco. Di conseguenza vorrei sentire adesso le dichiarazioni del sindaco contro la sua stessa maggioranza. Sta di fatto che se il centro-destra dura e puro già giovedì sera aveva mostro enormi dubbi sulla fattibilità dell'atto per l'acquisizione è tra le fila dei pro greco che probabilmente qualcosa non è andata per il verso giusto nonostante l'appello che il sindaco ha lanciato per arrivare al sì e avere il via libera all'esercizio del diritto di prelazione ormai scaduto. Soddisfatto il centro-destra per l'esito della votazione. L'atto è passato non per mancanza del centro-destra ma per la mancanza di una maggioranza vera e propria. Fermo restando che comunque abbiamo espresso le nostre perplessità in ordine al passaggio della torre di Manfria in mano pubblica. Non per mancanza di rispetto e disamore rispetto alla città ma proprio per amore verso la torre di Manfria e verso la città. Riteniamo che oggi non ci fossero comunque le condizioni per tutelare il bene, un bene storico come la torre di Manfria. La situazione fra l'altro andrà necessariamente inevitabilmente ad aggravarsi con un probabile dissesto, con un eventuale piano di riequilibrio che non ci permetterebbe neanche di spendere un centesimo per l'eventuale manutenzione anche ordinaria. Adesso la coalizione del centro-destra chiede al sindaco di contattare il nuovo proprietario della torre per concordare dei possibili percorsi comuni con la città. Ci saremmo aspettati che il sindaco facesse questo passaggio prima della votazione. Sarebbe stato opportuno interloquire proprio con il possibile acquirente per eventualmente trattare alcune condizioni di maggior favore verso la collettività e renderlo fruibile anche in una parte della settimana o comunque renderlo disponibile alla cittadinanza e capire comunque quale sia il progetto del privato. Di certo meglio tardi che mai sarebbe opportuno proprio fare questo passaggio e capire quale sia il progetto su questo bene che comunque è un simbolo per tutti noi. Grazie. Grazie.